40 donne in arrosa lucane che si sono confrontate con la diagnosi del tumore del seno e rappresentano la bellezza e il coraggio di tutte le donne che affrontano una patologia oncologica in passerella per la sfilata Bella come sei organizzata dal Comitato Basilicata di Comen Italia. Una serata che rappresenta anche un'ulteriore occasione per parlare dell'importanza della prevenzione e dell'adozione di corretti stili di vita come arma primaria di difesa e consente di raccontare le iniziative che il Comitato Basilicata di Comen Italia sta organizzando nell'intera regione in vista della nuova edizione della Race for the Cure che si terrà da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre nella città di Matera, edizione alla quale sarà possibile iscriversi nel corso della serata del 2 settembre. Durante la sfilata di Piazza San Francesco d'Assisi insieme ai momenti di passerella delle donne in rosa si alterneranno testimonianze del Comitato Basilicata di Comen Italia e degli ospiti presenti e una performance di danza curata da Passione Danza di Ferrandina. L'iniziativa darà anche l'occasione per annunciare l'apertura a partire da lunedì 4 settembre dopo il taglio del nastro che avverrà alle ore 18 della sede della Comitato Basilicata di Comen Italia presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, piano terra, grazie alla disponibilità della direzione dell'azienda sanitaria di Matera. L'edizione 2023 di Bella come sei sarà dedicata al ricordo di Tina Gaudiano che con entusiasmo ha sostenuto le iniziative di Comen Basilicata, in particolare in occasione dell'edizione 2022 della Raceford Cure e della concorso Vetrina in Rosa con un omaggio a lei, alla bellezza e al coraggio di tutte le donne in rosa.